Stiamo assistendo al disgelo ragazzi Poi c'è il circuito, c'è un circuito alto Sì, in Masnaga, in fondo, fanno musica da vivo E bagai, oggi il girettino gravel con i... Oh, guardalo qua Ci siamo fatti a Martesana Adesso andiamo verso l'Adda e ci vediamo un po' di sole Finalmente è uscito il sole Ieri diluviava Sole e caldo Ah, siamo fin troppo coperti Barretta e andiamo Oh, l'anticipo Grazie Questa è la ciclabile Sull'Adda Praticamente dalla Martesana Stiamo andando verso quella ciclabile dell'Adda che porta fino all'Eco E' un po' di fondo Tu senti cosa sconde? Eh? Guarda che lo vado Questa è sicuro Grazie Poi se vogliamo fare i villoresi adesso andiamo un pezzo fino all'Adda Torniamo in re Poi tagliamo dentro i villoresi Non è un po' di fondo Lungo L'Adda? Dove vai ancora? Vai avanti Ah, ma puoi arrivare fino all'Eco Guarda, guarda Tu quanto sei adesso? In chilometri? 24 ma non l'ho fatto partire te fai conto che adesso tornando indietro poi dobbiamo tagliare per gorgonzola fare un pezzo di strada, andare a prendere i villoresi e tu arriverai a 60-70 km così hai un anello e sai come farlo perché con la gravel per me i villoresi sono una bocca di qua invece qualche volta dobbiamo prendere e andare fino all'ecco voi non lo sapete i followers ma il buon Pasqualetti c'era il motivo per cui è stato assente giorni e giorni motivone praticamente era un infettato ragazzi ce l'avevamo sotto mano convinti non ce n'è quindi se l'è passata proprio lieve lieve però è stato un positivo infinito questo per la riprova speriamo che il 2021 porti via sto virus di merda perché qua ci ha un po' rotto il cazzo vero o no Pasqualetti? però adesso il 2021 ragazzi si progettini su progettini di giri epici su epici diciamo che quando l'avete visto di nuovo nel video prima di Natale era una delle prime uscite del buon Pasqualetti che il meccanico di Piazza San Giovanni se avete un problema la bici lui è la persona giusta che dovete eliminarlo esatto diciamo che ogni personaggio che andiamo a descrivere nei video ha una sua peculiarità eh? ah è il blogger il blogger il blogger è ma lo sono diventato da poco il perry blogger personal trainer eh? personal trainer e anche personal trainer personal trainer poi abbiamo il meccanico poi abbiamo il Kumenda Tour che è il marchese di Monza l'abbiamo visto in uno degli ultimi video lui ragazzi Kumenda Old Daddy esatto Kumenda Old Daddy poi abbiamo il conte di Montevendia lui ormai è diventato un ospite quasi fisso anzi quando non c'è mi chiama e mi chiede il motivo per cui non l'ho tirato in mezzo è vero no? il reparto animali poi c'è il reparto animali abbiamo l'asino il gufo poi andiamo a presentare man mano quest'anno abbiamo il reparto stolfi che la biondetta io e Pasqualetti il reparto nobili il marchese il conte e il reparto animali il gufo il gufo e l'asino che chicane io ci sono passato dentro invece Zana potete andare direttamente a lei qualche volta la facciamo questo è il guarese sì praticamente ma sono vuoti senti di solito è pieno e un canale nobili nobili ma nobili nobili ma nobili ma Vieni qua Zoi, c'è un pistolino, bel giretto, quindi girettino in gravel e domani vediamo se riusciamo a farci un girettino enduro, purtroppo è il buon meccanico, devo lavorare io ragazzi, ciao l'officina, qualcuno dovrà portare la casa a bagnone, ciao l'officina aperta, se vi è piaciuto il video un like, se avete voglia l'iscrizione al canale non vi costa nulla, alla prossima, ciao!